buongiorno qual è la follia narcisistica dunque in generale la follia si sviluppa quando l'io o la coscienza è sopraffatta da un sentimento che non può integrare questo concetto di follia è avvalorato dal linguaggio comune infatti se qualcuno ci infastidisce troppo possiamo dire basta mi fai diventare matto perché siamo incapaci di tollerare un fastidio troppo prolungato in quanto sentiamo di essere vicini ad un'esplosione di rabbia ad esempio la tortura lenta è una di queste situazioni c'era un'antica tortura cinese che consisteva nell'immobilizzare la vittima facendole cadere sulla testa e sempre sullo stesso punto una goccia d'acqua in modo tale che l'accumulo dovuto alla stimolazione costante diventava superiore a quanto la persona poteva sopportare e la sua mente cedeva tutti possono cedere ad una tortura che non finisce mai in questi casi o si muore o si impazzisce nel primo caso è il corpo che non regge nel secondo caso è lo spirito e comunque in entrambi i casi si spegne il collegamento energetico tra la mente e il corpo la tortura non è solo fisica ma esiste anche la paura che può spezzare la volontà di una persona poi abbiamo la cosiddetta deprivazione sensoriale che è in grado di rompere l'equilibrio mentale di una persona un esperimento di deprivazione sensoriale consiste nell'immergere il soggetto in una vasca piena d'acqua nella stessa temperatura del corpo la luce uniforme non ci sono stimoli quindi il soggetto è solo dopo un po la sua mente comincia ad avere allucinazioni e anche i neonati che vengono lasciati nella culla per lunghi periodi di tempo senza essere toccati entrano in uno stato di marasma e muoiono la morale è che abbiamo bisogno di stimolazioni ma abbiamo bisogno anche di un equilibrio quindi può essere dannoso sia l'eccesso di stimolazioni e sia la carenza di stimolazioni freud ci ha spiegato come la pelle ci protegge dagli stimoli esterni come una sorta di scudo e anche nel linguaggio comune si dice ad esempio che un individuo ha la pelle dura per sottolineare questa funzione protettiva sul piano metaforico ora iniziamo a dire che il narcisista si protegge chiudendosi nel suo guscio narcisistico psicologicamente i narcisisti hanno la pelle dura sono relativamente insensibili agli altri e anche a se stessi al contrario le personalità schizzoidi e schizofreniche sono talmente ipersensibili che sembrano non avere pelle perciò hanno un confine vulnerabile i narcisisti invece si difendono dal mondo isolandosi e mostrando una maschera una facciata che resiste alle pressioni esterne l'aspetto importante è che la pelle oltre a fungere da scudo protettivo è collegata con la coscienza che rappresenta la percezione che ha l'organismo dell'interazione tra il mondo interiore e il mondo esterno per farvi capire meglio quando chiudiamo gli occhi per dormire escludendo il mondo esterno perdiamo coscienza e la nostra sensibilità gli stimoli esterni si riduce mentre aumenta la sensibilità onirica ma se qualcuno ci scuote rendendoci nuovamente consapevoli del mondo esterno torna la coscienza dell'io e il sogno svanisce ma anche un anestetico totale ci fa perdere la coscienza e non sentiamo più il dolore dunque come dicevo la pelle separa il mondo esterno dal mondo interno e possiamo immaginare la coscienza come una luce nell'oscurità dell'inconscio ma possiamo vedere solo ciò che è illuminato nel nostro campo visivo naturalmente se illuminiamo e mettiamo a fuoco il mondo esterno diminuiamo la consapevolezza del nostro mondo interiore e viceversa ora qual è il punto il narcisista mette chiaramente a fuoco la realtà esterna ma esclude una parte del mondo interiore legato al mondo dei sentimenti in quanto non è capace di rispondere emotivamente alle situazioni il narcisista nega i propri sentimenti perché li avverte come pericolosi e destabilizzanti così si protegge con una difesa ci sono famiglie che sembrano perfette soltanto perché i vari membri hanno represso la ribellione e si sono sottomessi negando i propri sentimenti ma questa difesa diventa una nevrosi perché protraendosi in età adulta rimane operante sempre anche in situazioni che non richiedono alcuna protezione l'effetto di una difesa è quello di irrigidire l'io e così per tornare alla famiglia perfetta il sorriso tipico dei membri di queste famiglie diventa stereotipato come una maschera che non si riesce più a togliere il risultato è una diminuzione della capacità dell'io di rispondere emotivamente alla realtà freud dice che l'io rigido è come un cavaliere immobile in sella che rischia di essere sbalzato ad ogni brusco movimento cioè a ogni sentimento e così il corpo del narcisista diventa pian piano sempre più insensibile quasi privo di emozioni ma proprio questa insensibilità crea una fame di sensazioni che porta poi all'edonismo tipico della cultura narcisistica una mentalità folle perché porta il narcisista ad anestetizzare e a proteggersi dalla vita stessa la sua frenesia la sua sbaglia di protagonismo l'irrequietezza il bisogno di fare continui programmi sono tutti dei modi per anestetizzarsi il narcisista non sa stare fermo si sente vivo soltanto quando agisce ma questo tipo di agire è una difesa contro l'essere e il sentire così la scalata a successo la ricerca al potere l'eccitazione sessuale la musica assordante il ballo sfrenato tutto questo sembra aiutare l'individuo narcisistico a sentirsi vivo ma a scapito della sensibilità interiore da dove nasce tutto questo dalla famiglia come ho spiegato nei video precedenti la famiglia del narcisista è una famiglia problematica con ruoli confusi è un alto livello di invischiamento i genitori fanno sentire in colpa ai figli con frasi del tipo non vedi quanto mi do da fare per te oppure dimmi che mi vuoi bene dimmi che sono una brava madre o un bravo papà eccetera eccetera i pazienti che poi arrivano in terapia riferiscono ad esempio di una madre triste che parla dei suoi problemi al figlio il quale diventa lui il genitore della madre ecco il figlio genitoriale poi ci sono quei genitori masochistici che rivestono sui figli e i loro sentimenti negativi sentimenti di tristezza di dolore che però sono superiori alle forze del bambino il quale si deve difendere perché non li può gestire ecco la follia di cui dicevo all'inizio il bambino gravato di sentimenti negativi vorrebbe gridare la sua rabbia ma credendo che questa rabbia sia distruttiva cosa fa la reprime la soffoca così si crea una corazza difensiva fatta di muscoli rigidi fatta di un sorriso stereotipato è come mettersi praticamente una camicia di forza psicologica il narcisista ha questa tensione cronica che funge da scudo contro gli oltraggi provenienti dal mondo esterno e contro i suoi stessi impulsi interiori i narcisisti sembrano delle statue sono persone tutte ed un pezzo chiuse in un guscio perché hanno vissuto un antico terrore dentro di loro c'è un bambino o una bambina impaurita a cui non è stato concesso di piangere di urlare e quindi questi bambini hanno perso troppo presto l'innocenza infantile e l'opportunità di vivere un'infanzia giocosa che avrebbe permesso una maturazione lenta e naturale invece sono stati spinti ad apprendere velocemente come ad esempio con i giocattoli educativi sotto gli occhi vigili dei genitori che controllavano costantemente i loro progressi ma i bambini vanno lasciati liberi di giocare per il puro piacere di farlo senza proporsi altri scopi anche perché i bambini percepiscono quello che i genitori si aspettano da loro nonostante non venga espresso nulla esplicitamente troppo spesso i padri e le madri vadano solo ai risultati sono attenti agli indizi di straordinarietà del bambino e seguono i suoi progressi come i tifosi di una squadra non accettano i fallimenti questa è la cultura competitiva purtroppo poi è molto difficile per un bambino abituato a considerarsi speciale accettare di essere uguale agli altri e di essere un bambino comune purtroppo nella nostra cultura occidentale orientata verso il successo materiale sembra che il fallimento sia il peccato più grande ma la realizzazione globale di una persona è un'altra cosa allora è importante non lasciarsi coinvolgere dal narcisismo della nostra cultura che identifica l'appagamento personale con il successo nel mondo del lavoro ma questo è un successo soltanto mentale non va bene è un successo parziale le realizzazioni personali dovrebbero essere come la glassa su una torta o la salsa sulla carne ma i narcisisti confondono il condimento con la pietanza perdendo di vista l'essenziale bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video sui vari argomenti di psicologia dal narcisismo alla dipendenza affettiva dalla manipolazione agli attacchi di panico o a come interpretare i vostri sogni se vi iscrivete al canale youtube verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia inoltre un sito che è www.robertoruga.it dove troverete tutti i contatti e alcuni pubblicazioni tra cui un libro infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype la videochiamata su whatsapp oppure su messenger o la consulenza telefonica per cui potete contattarmi al numero che compare sotto nella descrizione del video o potete scrivermi a r.ruga chiocciola virgilio punto it buona giornata a tutti e in bocca al lupo